Nuovo retroscena su Kanyaman oltre all'annuncio dell'uscita del suo primo libro Kanyaman negli ultimi giorni è finito al centro del gossip e per un'altra vicenda A parlarne come sempre è Alessandro Rosica che ormai da mesi sta alle costole del 32enne turco L'investigatore social sul suo account Instagram ha condiviso un messaggio contro Roberto Macellari, amico stretto del vivo di Istanbul Secondo l'influencer questo tizio sarebbe la rovina dell'attore e su IG ha spiegato pur le ragione ce lo hanno spinto a dire tutto ai suoi follower Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta Alessandro Rosica punta il dito contro Roberto Macellari nello specifico, la scorsa settimana Alessandro Rosica si è scagliato contro Roberto Macellari Per tutti coloro che no lo conoscessero quest'ultimo è un caro amico di Kanyaman ma anche suo braccio destro Infatti, l'uomo è sempre presente nei vari movimenti, uscite professionali o non del protagonista di dei dreamer leali del sogno La sua ossessione? Le fan di Kanyaman Lui viene spesso contattato per mandare saluti a Kanyaman e in cambio cosa fa? Promette di farle incontrare o fargli fare autografi dal loro idolo Ha scritto l'esperto di gossip su Instagram che subito dopo ci è andato giù più pesante Nulla di strano se non fosse che il suo scopo è portarle a letto, ha asserito Rosica svelando un clamoroso retroscena che è stato notato dal popolo del web Nessuna replica dei diretti interessati sempre sul suo account Instagram Alessandro Rosica su Roberto Macellari ha continuato così Ho sempre detto che la rovina di Kanyaman in Italia è questo signore qui Subito dopo la pesante accusa l'investigatore social ha lanciato anche un appello a tutte le fan del divo turco Affinché stiano alla larga dal suo braccio destro Ad oggi non è arrivata nessuna replica da parte del diretto interessato Nemmeno quella dall'attore di Istanbul attualmente impegnato sul set della Fiction Mediaset Viola come il mare con Francesca Chillemi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti